ciao a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti sullele king tv quest'oggi andiamo ad aprire ben 5 pacchetti della champions league 2020 2021 ricordo ragazzi in questi pacchetti ci sono 10 figurine a pacchetto quindi vedrete 50 figurine come al solito ragazzi votate sotto nei commenti la vostra figurina preferita fra quelle che vedrete in questo spacchettamento lasciate un bel like e seguitemi sul canale youtube quindi iscrivendovi e attivando la campanella ma seguitemi anche sugli altri social tra cui instagram e tiktok e su twitch dove andiamo anche in live siamo pronti subito ad aprire il primo pacchetto questo qui bello bello pieno pieno andiamola ad aprire vediamo cosa esce fuori da questo pacchetto devo dire che da una certa soddisfazione aprire questi pacchetti con con 10 figurine alla vinicius junior che se non sbaglio già ce l'ho poi troviamo paretes ex giocatore della roma adesso attualmente al paris saint germain si parla di uno scambio di calcio mercato con paretes possibilmente all'inter ed ericsson al paris saint germain vediamo se poi si farà munt portiere inglese del celsi sabboslay chamberlain hazard del real lukaku il gigante lukaku io metto da una parte le mie preferite poi mettiamo lui lindelof difensore del magister united sicuramente sicuramente vinicius e lukaku andiamo con l'altro spacchettamento kirze lo stemma del liverpool marcus turam figlio di turam ex giocatore di parma juventus evanilson cimic topal karavev e stracoscia portiere della lazio altro pacchetto visca lo stemma del porto mendi ricca benzemà del rea david alaba pepe palomino dell'atalanta e alvaro morata con la maglia dell'atletico purtroppo e come sapete morata attualmente è della juventus quanto è uscita questa collezione è uscita non aggiornata con tutto che è uscita poi con così a settembre inoltrata purtroppo non è uscita giornata quindi molti giocatori sono con i vecchi club tra cui alvaro morata giocatore che momentaneamente è alla juventus camavinga lo stemma del manchester united kafu miranciu dario benedetto olimpic marxilla nkunku nkunku demiral della juventus alexic emre chan e dejea portiere del manchester united vandic vandic sema del paris saint germain guier guier cepeliv sar uzuni valverde tyson e papadopoulos dell'olimpiacos ragazzi abbiamo trovato il gigante lukaku in questo e vinicius jr in questo spacchettamento e secondo me sono le migliori figurine che abbiamo trovato fatemi sapere sotto voi nei commenti cosa ne pensate qual è la vostra figurina preferita intanto non perdete il prossimo video perché sarà il cielo mi manca in questa splendida raccolta ciao a tutti